L'archivio Giusto, gli interruttori Forza Kamala Forza Kamala Oh oh Immagino ora sappiano che sono qui Salve, che ne dite di non uccidermi? Donno zio, sembra che mi appenda un altro sconto Tieni duro Kamala, puoi farcela Generatore online, attivare i sistemi principali Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentarlo Smettila di perdere tempo, Kamala Hai nemmeno fatto interruttore Riottrime i sistemi Aspettate Grazie 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 Questo deve essere l'urto, vero? No! Sistemi secondari attivi Tutte le unità monarie Accessi sbloccati La porta dovrebbe essere aperta ora Ti prego, fa che Jorbis sia qui Forse si nasconde in questo mucchio di roba Avengers interessante No, concentrati Kamala Devo cercare qualche indizio Da Pepper a Tony So che non dovrei agitarmi proprio ora Ma lo sto facendo La chitarra di Tony Stark Cosa c'è qui? Siete in gran forma, ragazzi Impossibile Jarvis Devo solo trovare Hulk e andarmene Che cos'hai lì, scricciolo? Che ne dici di lasciarlo a me? Non credo proprio Che peccato Bentornato nel regno dei vivi Non hai un bel aspetto A tutte le unità Trovate la ragazza E non mettetevi in mezzo C'è qualcosa di sbagliato in te Qualcosa di diverso A badger dentro di te Vero Il suo imorso Non sei riuscito A liberarti dei vanni Ne ha un'ultima a lui Ora sei bloccato nel mezzo Scimmione Primo di ragione Forse non sei uno scimmiolo È una parola troppo gentile Per un essere grottesco come te Ho trovato la piantina dell'assidio Credo di poterti raggiungere Non vedo l'ora che lei si unisca Sì Lo senti? Qui c'è il potere Quindi è dove mi sono evoluto Sì Sono Grazie a tutti 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 Dove sono? Ottimo risultato Il caso 705 è guarito in modo eccezionale Verrà monitorato per 24 ore Congratulazioni Sei guarito? Impossibile Andiamocene da qui Non è sicuro? Non è sicuro Sì Certo Ah beh, allora sei libera di renderla un po' più accogliente Oh, grazie a tutti Stai bene? È strano Sei silenziosa? Sì, sì, non è niente Ok Ok, bene, allora Sì? Sì Se fosse vero Scusa, cosa? La cura? E se funzionasse Sembra tutto vero, ma... E se potessi tornare normale? Beh, sai... Non... Non funziona così Beh, li hai visti? Sembra che faccia davvero male, ma... Ma forse ne vale la pena Kamala... Non sono mai stata accettata Voglio dire... I supereroi erano il mio mondo e... Credevo che... Se avessi vinto quel concorso di fanfiction, sai, forse tutto sarebbe stato... Non importa Guardami Sono un mostro Oh... Non sei un... Quello che hai fatto... Ehi... Quello che hai fatto richiede fegato È stato stupido... Ma richiede fegato E... Ben pochi avrebbero potuto farlo Il bene non è parte di te Cosa? Ehm... Niente... Grazie La stanza è magnifica Ok O meglio lui sarà... Voglio dire... Sì... Ecco... Ehm... Bene Sì, grazie Ok... Vado... A... Fare... Cose... Ok... Bene Ben fatto, Kamala Non è stata affatto imbarazzante Ah... Ma ora ho una mia stanza sulla chimera Sta succedendo davvero Sta succedendo davvero Vedo qui Non è stata affatto interna Questa è attiva Miata Mora Miata 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 Io Miata Miata